La puntata di questa notte di WWE SmackDown è stata dedicata alla memoria e al ricordo di Terry Funk e soprattutto ovviamente di Bray Wyatt. Tra poco vi racconto quello che è successo nel main event ma vorrei partire dall'inizio perché lo show si è aperto con le star di SmackDown disposte a parata con anche qualche ospite proveniente da Raw e qualche aggiunta importante che tra poco vedremo. E qui non ci sono parole sufficienti per raccontarvi quello che ho provato. Le immagini sono più pesanti di ogni discorso che magari potrebbe anche sembrarvi retorico. C'è stato ovviamente il saluto a questi due eroi del ring, a questi due amici che non saranno più fisicamente tra di noi. E poi guardate al centro della scena, Triple H in rappresentanza della federazione come suo dirigente, Cody Rhodes, visto che il padre, l'American Dream, Dusty Rhodes, è stato uno dei principali avversari di Terry Funk e al fianco gli unici sopravvissuti della Wyatt Family, la pecora nera Brown Stroman al momento infortunato e il barba rossa Eric Rowan. Chi con gli occhi al cielo, chi con lo sguardo al suolo, chi singhiozzando e trattenendo a stento le lacrime, tutti gli atleti hanno pagato il loro tributo, hanno mostrato riconoscenza verso Terry e Bray che hanno in certi modi e per certi versi spianato la strada a molti di coloro che oggi sono lì pronti a darsi da fare con il desiderio di ripercorrerne la carriera, le gesta e i successi. C'è stato anche un altro bellissimo momento. In sceneggiatura si parla spesso di oggetto magico. L'oggetto magico non ha poteri sovrannaturali, non è una cosa aliena o irreale. È semplicemente un qualcosa di fisico che acquisisce di significato, di importanza. E uno degli oggetti magici di Bray Wyatt era la sua sedia ad ondolo. Intanto guardate qua che immagini, ragazzi. Bray Wyatt ed Eric Rowan che si abbracciano anche proprio davanti a quella stessa sedia ad ondolo sulla quale Wyatt spesso, oscillando, ha portato avanti la sua narrativa all'interno della WWE. Ora questa sedia è vuota, ma è come se fosse riempita dal significato che tutti noi diamo o daremo alla vita, alla carriera e alla cifra artistica di questo atleta e di questo essere umano che purtroppo, almeno a livello corporeo, non è più insieme a noi. C'è anche un altro istante magnifico nel quale la protagonista diventa proprio la sedia ad ondolo. Eccolo qua, il fascio di luce, l'occhio di bue, no? Si dice in gergo tecnico. Con gli altri dietro che lentamente scompaiono. Un'assenza, un vuoto che si fa presenza, almeno materiale, che si fa presenza reale nel nostro cervello e nei nostri cuori. Un'allegoria, una figura retorica, secondo me è molto ben riuscita. Poi durante la puntata ci sono stati altri momenti di tributo, diversi video, ricordi, testimonianze su Bray Wyatt. Però ora io passo al main event, dove la WWE ha deciso di inserire LA Knight. Doveva esserci Jimmy Uso, che parlava, insomma, dei problemi all'interno della bloodline e col fratello Jay, ma è stato rinviato di una settimana. E WWE ha portato nel ring LA Knight per diversi motivi che ora capirete, visto che ho qui con me le traduzioni di ciò che ha detto. Un LA Knight che ovviamente ha la parola pronta e ha esordito dicendo «Parlerò di The Meads tra un attimo, perché questa è la serata di Bray Wyatt. Oggi, in questa arena, credo che tutti voi rappresentiate delle lucciole, il che mi ha fatto riflettere e mi ha ricordato che a volte il tuo più grande nemico può tramutarsi nel tuo più grande alleato. Perché siamo onesti. Io e Bray Wyatt siamo andati all'inferno e mi ha fatto ogni cosa immaginabile. E io a lui. Ma sapete nel mentre cosa stava facendo? Mi stava preparando al futuro. E sono riuscito a trattenere le emozioni sino a che non ho visto una foto della sua famiglia. Lì il mio cuore si è spezzato. Ma guardandomi in giro, lo sento, lo percepisco e osservando ognuna delle sue lucciole qui stasera, so che anche voi potete avvertire lo spirito di Bray Wyatt in questo edificio. E non voglio stare qui a dirvi che era il mio migliore amico, ma condivido ciò che avete cantato poco fa. Grazie, Bray. Perché così come voi percepite il suo spirito, lo stesso vale per me ed è affidandomi a lui che vi dico adesso parlo io. The Meads va in video, va da TMZ. TMZ è il principale sito internet scandalistico americano. Va un po' ovunque, e dice sempre le stesse cose. Ele Knight è solo un imitatore. Scusate, ho la voce rotta dall'emozione. Ele Knight è solo una moda. Ele Knight è solo una meteora. Beh, indovina un po'. Se fossi solo una moda mi andrebbe bene. Perché tu non lo sei mai stato. Nessuno si è mai interessato a te. Anche quando avevi una controfigura, lei era la star. Qui c'è un rimando a quando The Meads aveva lo stand-able, che era The Men's End. E anche quando parli del tuo regno mondiale, buon per te, facevi da tapezzeria alla storia tra The Rock e John Cena. Eppure continui a parlare di me. Dunque, hai detto che vuoi distruggermi? Beh, se vuoi farlo per sempre, ti sei dato un obiettivo molto difficile. E a me sta bene. Dunque, dove vuoi, quando vuoi, a SmackDown, a Raw, nella redazione di TMZ, sappi che sono pronto a dimostrarti chi è che comanda. Ditelo tutti! E ovviamente il pubblico canta LA Knight. E lui, yeah! E un'ultima cosa. Meads. Un giorno, un uomo saggio mi disse la prossima volta che mi vedi scappa. Lo scappa che è il classico run di Bray Wyatt con il quale LA Knight termina il suo monologo. Un LA Knight che è stato l'ultimo vero avversario di Bray Wyatt e io ricordo ancora un po' lo stupore quando si scoprì che era l'uomo del rientro contro il quale Wyatt si sarebbe scagliato. Era evidente che non poteva subito mirare al top che serviva una discesa di presentazione. Però quasi nessuno si aspettava che fosse un atleta LA Knight molto 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 distante dalla cima della federazione anzi un combattente estremamente ai margini quasi ininfluente eppure il lavorare con Bray Wyatt in una rivalità che lo vedeva spacciato sin dagli esordi sin dal dal primo gettito d'inchiostro sin dalla prima lettera ha permesso al pubblico di scoprire questo wrestler di apprezzarne il lavoro l'impegno la voglia di fare di vederlo sotto una prospettiva differente e di affezionarsi in qualche modo a lui di investire su di lui e quindi WWE credo che abbia voluto creare questa connessione anche a livello mentale a chiudere lo show ci vuole LA Knight che subito dopo la federazione nel momento in cui sto registrando il video non ha ancora pubblicato le immagini che subito dopo sconfigge attenzione spoiler sconfigge Finn Balor nel main event in maniera pulita dopo un superplex e una BFT credo che sia la vittoria più importante in singolo da quando LA Knight è arrivato nei roster principali ma c'è una coda aggiuntiva eccola qua perché mentre Knight dopo i replay saluta i fan sulla rampa vicino al ritorno nel backstage le luci nell'arena si spengono progressivamente e nel ring compare la lanterna di Bray Wyatt avvolta dalla nebbia mentre il pubblico canta thank you Bray e sul megaschermo appare una sua foto commemorativa che è questa qua che state vedendo a schermo ed è molto significativa è recente ma c'è Bray Wyatt con delle ali che possono ricordare quelle di un angelo sono quelle della falena delle luciole ali che muovendosi depositeranno e hanno depositato nel nostro cuore e nella nostra mente un ricordo che non svalirà mai io ci ho visto anche questo tentativo comunicativo l'uomo l'artista il personaggio che se ne vanno la leggenda che volerà per sempre sopra la disciplina quasi ad un livello superiore e la regia lentamente è andata a sfumare i cori le immagini sino ad arrivare al buio al nero alla notte un'uscita di scena dallo show emozionante quanto lo show stesso io faccio anche fatica a parlare se vado a braccio quindi se ho ripetuto qualche parola è perché come sapete quando devo produrre dei contenuti di questo tipo mi sento anche un po' a disagio ovviamente durante Smackdown ci sono stati tanti altri rimandi a Terry Funk non dimentichiamolo e a Bray Wyatt però mi sembrava giusto almeno prendere i due principali non racchiusi in video che non posso proporre e raccontarveli ma ora come al solito la palla passa nel vostro campo lasciate un mi piace se potete condividete il video ci sono i bottoni sotto e soprattutto raccontatemi come state nei commenti oppure se avete visto la puntata o l'avete vissuta attraverso le mie parole e ditemi cosa cosa vi ha dato quali emozioni ha suscitato in voi e come al solito fatelo con dita roventi nello spazio dei commenti che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è